Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Oggi parliamo di noi, parliamo di un tempo della nostra vita che è passato ma che in realtà è molto presente negli uomini che oggi parleranno a nome degli istituzioni che hanno pagato un prezzo altissimo di questo periodo molto recente della nostra vita. Voi li avete già visti ma io li voglio salutare. Oggi è veramente una coincidenza straordinaria avere tante personalità con noi, dal capo della Polizia Franco Gabrielli, dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Mistri, dal direttore centrale della Polizia di Prevenzione Lamberto Giannini, abbiamo il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia Romanelli, Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quindi queste presenze così autorevoli ci danno il senso dell'importanza di questo momento e ovviamente non ho citato tutti, mi scuso con tutti gli altri naturalmente, ma citando i vertici no signor Capo, diciamo che ricomprendiamo tutti. Allora poi naturalmente il prefetto Andreassi, Daniele Repetto e il nostro ospite, Letizia, per l'Associazione Funzionale di Polizia, presentiamo questo libro che ha un titolo che può sembrare diciamo antico, ma che in realtà racchiude molto, Guardie, le vittime indivisa del terrorismo. Io faccio solamente una considerazione, la considerazione è legata al fatto che qui non si tratta di un omaggio o di un ricordo di personale dei forze dell'ordine, delle forze armatiche che hanno perso la vita per lo Stato, non si tratta di un epitaffio, non si tratta di un elenco di nomi. Io ho trovato molto convincente l'unione tra la ricostruzione fatta dal prefetto Andreassi, di quei momenti, di come è nata, diciamo, e di come si è sviluppata la strategia dello Stato per combattere il terrorismo e il sacrificio di queste persone. Io trovo che questo libro renda giustizia al sacrificio di queste persone, i nomi sono tanti, sono più di cento, sono nomi anche sconosciuti, chi ha avuto modo di scorrere il libro? Tanti non ce li ricordiamo, qualcuno poi ti riviene in mente perché quella stagione l'abbiamo vissuta e quindi mi ricordo quell'episodio, però purtroppo il singolo nome è destinato un pochino a cadere, non dico nel dimenticatoio, però nella massa, perché sono tanti. Però unire il sacrificio di queste persone al successo finale dello Stato è un po' rendere giustizia a quel sacrificio. Io credo che il sacrificio di quelle persone sia stato il motore del successo dello Stato. Per cui tracciando un consuntivo alla fine quelle morti di persone che io leggendolo ho definito ma questi non sono né eroi né persone straordinarie. Questi erano lavoratori che andavano a lavorare in autobus, prendevano l'autobus, che oggi può sembrare una cosa, accompagnavano i figli a scuola, prendevano l'autobus e andavano a lavorare. Si scambiavano vite, perché il prefetto ricorda queste amicizie che nascono, poi anche quando il lavoro ti porta lontano, ma rimanevamo in contatto, una telefonata, una cosa, il dentista, ti porto dal dentista, perché se hai mal di denti non puoi e tu non ci vai perché invece vuoi lavorare e pensi di non avere tempo per farlo. Quindi sono vite ordinarie, sono esempi, da una vita ordinaria viene un esempio straordinario. Perché io penso che il loro sacrificio sia stato il motore del successo dello Stato? Perché sono tutti uomini e donne che hanno avuto un'intuizione. Sono morti perché hanno avuto un'intuizione. Può essere un semplice controllo? Una macchina che, un'automobile che, diciamo, mi fa pensare che ci sia qualcosa che non quadra e vado a fare, diciamo, un controllo e poi scopro che a bordo c'erano dei terroristi. L'intuizione di una perquisizione in casa dei genitori di un terrorista e trovo che il terrorista era a casa e poi nasce il conflitto a fuoco e poi tutto quello che ne è venuto. Cioè, ognuno di queste persone è morta perché aveva scoperto qualche cosa e si portava dietro il peso di quella scoperta anche quando, diciamo, la vendetta, tra virgolette, del terrorismo è arrivata diciamo, in un momento successivo. Io trovo tutto questo insieme di, diciamo, di storie raccontate benissimo. Benissimo, guardate, io devo fare i complimenti a tutti e due gli autori. Non c'è un attacco uguale a un altro. Ci sono un centinaio di biografie. Se voi fate attenzione, sapete che poi nel giornalismo la cosa più difficile di un pezzo è l'attacco perché, cioè, devi un po' colpire, non c'è un attacco diverso, non c'è un attacco uguale a un altro. E questo veramente, siccome sono tanti, e poi lo stile del prefetto lo conosciamo perché ormai è, diciamo, è uno scrittore affermato, siamo alla terza pubblicazione, vorrei ricordare, e beh, questa cronaca così asciutta, questo racconto, questo, anche dar conto, onesta, fredda, cioè, dire lo Stato non ci aveva capito niente all'inizio. All'inizio li dicavamo pure perché quando c'erano delle situazioni, delle, diciamo, delle nuove intuizioni che si provava, alle quali si provava di dare forma e queste nuove intuizioni non riuscivano, poi alla fine ci facevano litigare per cui si nascondevano le cose, gli investigatori da una parte, chi doveva emanare i provvedimenti dall'altra e poi questo percorso duro, questo percorso lungo, faticoso, costellato di morti, costellato di morti, con tanti amici che non ci sono più. A me ha colpito la corsa verso Acilia in macchina quando si era diffusa la notizia di una sparatoria, pensando, sperando che quella macchina blindata avesse potuto salvare la vita al capitano e invece quel giorno la macchina blindata non era partita. Per cui una semplice ritmo non poteva, diciamo, opporre alcun tipo di resistenza a quei proiettili. Ecco, c'è tanto altro naturalmente, ma io mi fermo qui anche perché poi lo sentiremo da loro e poi sentiremo anche il racconto, rivivremo un po' quegli anni e la fatica dello Stato di arrivare a quello. Però c'è un'ultima considerazione che volevo condividere con voi. Voglio terminare così come comincia il libro anche perché questo libro non sarebbe esistito se non ci fosse stata una guardia che in qualche modo salvò la vita ad una donna, ad una ragazza, una partigiana. E questo ci fa capire una cosa e comunque quando indossi una divisa in qualsiasi tempo storico, in qualsiasi momento, tu non puoi che stare da una sola parte, dalla parte dei cittadini. Non ci sono altre parti. E grazie a quella guardia che noi abbiamo potuto raccontare anche questa storia. Grazie. Grazie.